No, per favore, fumi da fastidio. Beh, darmi tu un po' di buona musica, così scadiamo con l'ambiente. Liga Bue, no dai, ho della musica italiana. E poi Liga Bue, all'inizio era passabile, ma col tempo si è commercializzato troppo. Le ultime canzoni fanno veramente schifo. Hai qualcosa di Janis Joplin? CHE! Dai, ci guardiamo un film. CHE' D'ANNO AL CINEMAN? Non è che pensavo di guardarlo qua? Ho il letto comodo, la tv grande. E che film hai? Ho una lecciata del corso e del pincio. No, anche tu un fanatico di Dan Brown. Hai tutti i libri, scritto, l'evento del ghiaccio, la prova del cuoco. No, dai, usciamo invece. È una così bella serata. Sì, non mi darò l'ora di tornare a casa. Questa città è che non lo vado. Vabbè dai, ci stiamo dando un bacio un po'. Ma tu vieni spesso qui? Sì, carino quello. Non c'è un cane. Ok, andiamo a sedere là? No, non vedo là. Anzi, un vino rosso per me è una birra per la mia amica. No, no, anche te è un vino rosso. Ah, mi conta quella di prima. Non c'è un vino rosso per me è un vino rosso per me è un vino rosso. Ascolpo, ciao. Prevecca, come stai? Vieni, ciao. Vieni, ciao. Vieni, ciao. Sì Ok. Poi dobbiamo mettere una casa. Sì, sì. Ciao. Ok. 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 I don't have a bath and drink and drink? Ok. Ok. è la bomba tra le gocce di queste sarà una bambola il tuo potere la coppia ma questa magnifica cosa hai? mi sento bene ehm, voi che andiamo a casa? Magari sì. Ma di male? Ma di male? L'abuso di lassativi può causare di arrea persistente con conseguente perdita d'acqua, si ricchezza cronica e perdita delle normali funzioni intestinali. Tutto bene? Manca la carta. Oh, oh, oh. Oh, ciao Dani, dimmi. Ciao Vicky. Avresti un po' di carticella? Sì, aspetta. Oh, oh. Oh, ciao Dani, dimmi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Grazie. Ehm, mi chiedevo, ti andrebbe di venire a vedere un film giù da me? Tipo, adesso? Aspetta un momento. Questa è scatoletta. Certo? È sbagliato. I numeri di fibonacci hanno un senso solo assoluto. Questi sono... Il codice era vinci Dani, avevo proprio voglia di rivedere questo film. Ma mi è arrivato un po' di voglia di tonno. Non è che ne avessi una scatoletta? Questa frase non ha senso. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on, come on. Take it. Take another little piece of my heart now, baby. Oh, 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 oh. Pleasure. Take another little bit of my heart now, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Take another little piece of my heart now, baby. Well, you know you got it. If it makes you feel good, oh, yes indeed.